Si torna a parlare di Colle Maggio e della sua riqualificazione, argomento sempre attuale. Da anni si attende infatti all'Aquila la riqualificazione dell'area dell'ex ospedale psichiatrico. E alle nostre spalle uno dei tanti fabbricati dell'area dell'ex ospedale psichiatrico di Colle Maggio che giace nel più completo abbandono. Si parla di riqualificazione, un argomento sempre attuale, ma nel frattempo questa area, una delle più belle e anche sostanziose in termini di spazio della città, rimane così, preda spesso, quasi ogni notte di vandali, urge dunque fare qualcosa, ridare alla città quest'area, creare qualcosa di bello che possa essere utile anche per il rilancio sociale dell'Aquila. Uno spazio bellissimo vicino al centro, ma che appare sempre più abbandonato a se stesso, spesso vittima di atti vandalici e ravvivato solo dalla presenza del Comitato 332 nel doposisma, che porta spesso, tra l'altro, iniziative culturali di spessore. Manca poco e poi anche i piccoli presidi sanitari ancora presenti dall'area andranno via, compreso il centro vaccinazioni, e allora ci sarà spazio e tempo per pensare a come adibire una zona che sarebbe utilissima per mille attività. Ricordiamo anche che pure la regione Abruzzo, proprietaria dell'area attraverso l'ASL e il Comune dell'Aquila, sono spesso sollecitati a dare delle risposte in merito. Nel 2014, vale la pena ricordare, l'ASL presentò anche il piano per riqualificare l'area, grazie al supporto dell'Università, presentando un laboratorio progettuale per recuperare il complesso di Colle Maggio con Bioarchitettura di Bologna in una collaborazione gratuita. Al momento tutto tace e di qui l'esigenza pressante degli aquilani di cercare ancora una volta di capire tempi e modalità.